Zeman derby, si recupera la partita di campionato, intanto come sta la squadra, eventuali indisponibili a parte a Cornero, Tunjov e Staver che sono in nazionale? Abbiamo tre nazionali, Pellacani ancora non sta meglio anche se si alena con noi già e Franchini sta ancora a parte, non siamo troppi ma non siamo nemmeno pochi. Che partita si aspetta con il Pineto Zeman? Ma io penso che è un avversario difficile, nel senso che è una squadra che è salita di categoria, che affronta Pescara che per loro è importante come per noi, però loro non sono abituati, noi nemmeno, anche se abbiamo fatto in preparazione la partita amichevole per noi. Il Pescara ha delle assenze, abbiamo detto poco fa, è l'occasione per vedere uno tra Tomassini e Vergani o Cupone ancora imprescindibile per questa squadra, per tanti aspetti? Ma vediamo che succede, la formazione non la dò. Ma l'ha decisa? Non l'ho decisa. Però, tatticamente, che partita vuole vedere? Dove deve essere bravo il Pescara? Noi dobbiamo essere più attivi rispetto a Ferrara. Abbiamo giocato troppo da fermo, troppo fermi e non ci si arriva così, come Pineto. Ripeto, a parte che c'è entusiasmo e ha la voglia e penso che loro la mettono sul ritmo e noi dobbiamo rispondere. Le chiedo un'ultima cosa, è possibile vedere un Pescara come con il Sestri Levante, nel senso un turnover così ampio o quella è stata un'eccezione? Solo questa indicazione ce la può dare? No, è stata eccezione. Mercoledì spero di poter mettere la squadra con quelli che stanno meglio in questo momento.